Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Come i discepoli del Vangelo, siamo stati pressi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati. Quindi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di imballare e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Non avete ancora fede?